Buongiorno a tutti, come vi ho detto alla fine della lezione, questo video è un appendice, un addendum rispetto alla lezione precedente, nella quale abbiamo approfondito un pochino di più i contenuti del corso. In questo breve video vi racconto invece gli aspetti più logistici, pratici, che non richiedono necessariamente di lavorarci insieme. Il messaggio principale chiaramente è che tutto il contenuto, tutto il materiale, tutte le informazioni relative al corso le trovate principalmente in questo sito, il sito del corso, l'abbiamo già citato, l'abbiamo già visto insieme, che è il punto di riferimento principale per tutto il materiale, dove trovate sia il materiale didattico, sia la sezione che ho chiamato qua il registro delle lezioni, che è quella che conterrà settimana per settimana, lezione per lezione, l'argomento svolto e il materiale relativo alla lezione stessa, quindi le slide, le registrazioni video della lezione e così via. Per ogni cosa il primo punto di riferimento è sempre il sito del corso e all'interno del calendario, questa è una navideata del calendario dell'anno scorso, quindi non ci sono ancora le date di quest'anno, ma in totale avremo un corso di 80 ore, di cui una cinquantina di ore circa, 62 ore, non 50, 41 più 9 più 12, 62 ore in aula e 18 ore in laboratorio. Le ore in aula sono divise principalmente una quarantina, quindi complessivamente la grande maggioranza di lavoro sulla programmazione, sul linguaggio Python, in particolare di queste sono 12 ore, che qui ho etichettato come problem solving, essenzialmente sono risoluzioni di esercizi insieme usando Python e poi ci sono un paio di lezioni sulla parte di teoria, quindi 9 ore complessive tra lezioni e esercizazioni sulla parte di teoria che poi, diciamo così, vi trovate all'esame. Qua è un paio di domandine. Il laboratorio, come dicevo, è fatto 18 ore, quindi se riusciamo a incastare nel calendario ci sono 12 laboratori, ciascuna settimana ci sarà una gestazione di laboratorio moltiplicata per tre squadre, quindi siete divisi in tre squadre, squadra 1, squadra 2 e squadra 3, che è quella online. La parte di programmazione del corso, in particolare la parte di Python, fa riferimento a questo testo, che è quello indicato ovviamente sul sito del corso, in versione italiana o in versione inglese, per chi volesse. Sono esattamente allineate queste due versioni, la terza edizione inglese e la seconda edizione italiana sono allineate. Ecco, questi testi, diciamo così, nella prima metà, nei primi otto capitoli, contengono di fatto tutto il programma del corso, a meno di un paio di argomenti, ma diciamo così, coprono molto bene ciò che ci serve. La seconda metà dei testi invece è più approfondita, può essere interessante per chi vuole si approfondire, ma non fa parte del dettaglio degli argomenti del corso. Nelle slide che troveremo di lezione, troverete riferimenti di tanto in tanto con un'iconcina di libro al capitolo nel quale l'argomento che stiamo trattando, in quale capitolo viene spiegato questo argomento. La parte più valida di questi testi è la presenza di numerosi, numerosissimi direi esercizi di difficoltà diversa, quindi usateli sia se volete per ripassare, sia soprattutto per andarti a cercare qualche esercizio in più rispetto a quelli che magari vogliamo fare insieme in aula o che vi riusciamo a proporre in laboratorio. Tra l'altro molti esercizi di laboratorio sono anche tratti, magari alcuni modificati dal libro di testo stesso. Il libro di testo non è, qui siamo all'università, non è obbligatorio, molti studenti si trovano bene lavorando direttamente col programma, con il materiale che forniamo noi, appunto i video e le slide, altri invece preferiscono studiare su un supporto cartaceo e per noi entrambe le soluzioni sono equivalenti, scegliete voi essenzialmente quale metodo di studio preferite. Ovviamente queste sono informazioni di dettaglio per quanto riguarda i testi, oramai essendo già il secondo anno in cui questo testo è adottato, trovate abbastanza facilmente sia sul mercato dell'usato che nelle librerie, diciamo così, la disponibilità di questi testi, se li doveste ordinare avete qua tutti i riferimenti, in particolare i codici di SBN che vi permettono di andare a colpo sicuro su che cosa volete ordinare. Poi ovviamente Python è un argomento che è estremamente diffuso ed estremamente diciamo di moda, nel senso che è come abbiamo visto un ecosistema molto aperto e diciamo così è conosciuto da molti e soprattutto in modo, cioè come percorsi introduttivi all'informatica, io qua ho riportato alcuni testi che vanno per la maggiore, che sono anche stati tradotti in italiano recentemente, delle case editrici principali, questo di Geddis, questo dei Fatel Dietl, sono anche testi altrettanto validi, noi abbiamo scelto uno chiaramente per seguire, ma per seguire queste sequenze di argomenti, ma se avete per le mani uno di questi testi sono altrettanto validi. E poi ci sono molte risorse, moltissime online, sia sotto forma di documentazione, di tutorial, di video, esplicativi, di esempi, eccetera, eccetera. Ad esempio questo testo qua è disponibile anche completamente in modo da forma completamente gratuita, online, e questo sito contiene molti tutorial e molti video, quindi effettivamente non mancano le informazioni sul linguaggio e sulla programmazione in Python. E contestualmente, oltre ai libri e alle slide, abbiamo, e soprattutto direi, abbiamo gli strumenti di programmazione. Strumenti di programmazione che sono gli ambienti di sviluppo nel quale andremo a scrivere i programmi. Parleremo un pochino più nei dettagli degli ambienti di sviluppo quando inizieremo a entrare nel linguaggio. L'ambiente di sviluppo che abbiamo selezionato come prevalente in questo corso è il codetto PyCharm, edizione educational, del quale avete le istruzioni per scaricarlo e installarlo direttamente nella documentazione del corso, molti di voi so che l'hanno già, diciamo, letto questa documentazione e installato questo software. Quindi un software che installate è compatibile sia con Windows che con Mac che con Linux e quindi potete installare su qualunque vostro computer. E anche l'ambiente nel quale poi si svolgeranno gli esami, quindi si converrà a usare, imparare a usare PyCharm. Poi esiste, lo useremo a volte per spiegare alcuni concetti o alcuni costrutti del linguaggio, un sito che si chiama Python Tutor, che ci permette proprio la sua caratteristica, quella di visualizzare graficamente, disegnare dove vanno finire le variabili, i valori, le strutture dati. Quindi quando introdurremo un concetto nuovo per riuscire a capirlo meglio, interiorizzarlo meglio, non c'è nulla come interattivamente riuscire a scrivere il codice e vedere che cosa succede. Questo chiaramente non è un strumento per la programmazione in generale, ma per capire come funzionano alcune cose, didatticamente lo troviamo abbastanza comodo. Così come esiste un altro sito che useremo parecchio, il sito Replete, che è di fatto un ambiente di sviluppo online, dentro il quale semplicemente aprendo un browser si può scrivere del codice Python, eseguirlo, vedere l'output e così via. E questo sarà molto comodo soprattutto quando dovremo o condividere del codice, quindi anche durante i laboratori, durante le associazioni, vi chiederemo quando avrete delle domande ma questo non mi viene, come ho fatto? Vi chiederemo mettilo su Replete e mandami il link così io lo posso vedere, vedo che cosa hai fatto e posso risponderti. E contemporaneamente possiamo eseguirlo, farlo funzionare. Quindi un strumento sia di collaborazione molto comodo appunto per poter condividere il codice, sia anche per poter provare a eseguire qualcosa senza necessariamente lanciare PyCharm oppure da un computer su cui PyCharm non si è installato perché essenzialmente lavora semplicemente dentro un browser, quindi dentro Chrome o dentro Firefox o Safari che voi vogliate utilizzare. Questi strumenti, come vi dicevo, sono dettagliati nelle istruzioni di installazione che avete trovato sul portale, quindi a seconda che lavorate su Windows o su macOS, seguite queste istruzioni per installare l'Interprete Python prima di tutto e poi l'ambiente di sviluppo PyCharm, preferibilmente nella versione Educational che è la più semplice. Se volete lanciarvi già subito su una versione un pochino più complessa potete installare la Community oppure la Professional che hanno via via più funzionalità. Il linguaggio Python, la programmazione Python è la stessa, esattamente la stessa. Le versioni più complesse di PyCharm, dell'ambiente di sviluppo, hanno più menu, più bottoni, più icone che servono, diciamo così, per il programmatore più avanzati ma potrebbero magari confondere o creare un po' di confusione per chi fosse la prima armi. Per questo consigliamo la versione Educational che è decisamente più semplice come interfaccia. L'interfaccia di PyCharm è una cosa di questo genere in cui trovate un pannello principale in cui c'è il programma che andremo a scrivere, un pannello a sinistra in cui ci sono i file che compongono il nostro progetto perché il progetto può essere fatto da un programma o su un file singolo o su più file e poi nella parte bassa c'è una finestra che mostra lo stato di esecuzione del programma quindi in questo caso sta facendo vedere il dettaglio dei valori delle variabili perché noi abbiamo bloccato a un certo punto l'esecuzione del programma in modalità debugging per capire cosa stava succedendo e qui ce lo mostra mentre Python Tutor ce lo mostrava in forma grafica questo ce lo mostra in forma testuale ma comunque ci permette di capire cosa sta succedendo all'interno del nostro programma. Oppure in questa finestra qua sotto compare l'output cioè ciò che viene stampato dal programma stesso. Questo è un po' l'ambiente in cui lavoreremo sempre, bisognerà ogni volta creare un nuovo progetto che è questo contenitore e dentro il progetto creiamo i file. Ma questo lo vediamo insieme nelle prossime lezioni Lo stesso identico programma caricato sulla piattaforma replit.com è molto simile nel senso che qui abbiamo il programma, qui abbiamo l'elenco dei file e qui abbiamo l'output del programma stesso. Anche replita un debugger che è un pochino limitato, è un pochino più rudimentale anche l'editor è un pochino più rudimentale ma sicuramente è molto comodo perché siamo direttamente dentro browser come dicevo quindi vi consiglio di crearvi un account su questa piattaforma in modo da poterci lavorare anche voi. Dal punto di vista pratico, quindi questi sono gli strumenti e i materiali di base. Dal punto di vista pratico come si svolgono le lezioni? Si svolgono secondo questo orario settimanale che avete potuto vedere sull'app e sul sito del Politecnico. Noi ci vediamo in questi tre giorni della settimana, martedì, mercoledì e giovedì. Mercoledì e giovedì sono dedicati alle lezioni o esercitazioni, non c'è differenza tra una lezione teorica e un esercizio perché molti argomenti li affrontiamo in modo molto pratico, tra le prime lezioni che sono più di introduzione in modo molto pratico facendo direttamente esercizi immediatamente dopo aver introdotto un argomento teorico. Sapete che le lezioni del mercoledì sono in aula 5 per queste tre ore, come abbiamo visto questa mattina e le lezioni del giovedì saranno invece in aula virtuale, quindi tramite la piattaforma Zoom ci collegheremo in remoto attraverso il link che vi ho dato e che è stato pubblicato anche sulla pagina del corso. Sarà sempre lo stesso link per tutto il corso, non è che ogni settimana bisogna cliccare su un link diverso, quindi salvatevelo da qualche parte, sapete che quando inizia la lezione di informatica vi collegate con Zoom, alle 11.30 del giovedì vi collegate con Zoom a quel link e vi seguite la lezione. Tutte le lezioni saranno registrate e pubblicate sul portale della didattica e sulla pagina del corso, tutte queste tre lezioni, sia quelle che registriamo in aula, sia quelle in virtuale, sia eventuali altri contributi video come quello che stiamo producendo in questo momento. E poi c'è la giornata di laboratorio che è martedì, che è composta, divisa in tre squadre, squadra 1, squadra 2, squadra 3, che si intrecciano con le squadre di analisi di chimica, su cui entriamo nel dettaglio tra breve. I laboratori sono la parte di gran lunga più importante del corso, cioè seguire i laboratori, svolgere gli esercizi dei laboratori è ciò che vi permette di passare all'esame, parlando terra a terra. Le lezioni sì sono utili, le esercizioni sono utili, ma è solamente quando voi vi mettete di fronte a un computer e cercate di risolvere un problema impostandolo sotto forma di un algoritmo e poi codificando il programma corrispondente, è solo lì che effettivamente riuscite a imparare, capire se avete capito, confrontarvi ed eventualmente riuscire a imparare a superare gli errori che sicuramente inevitabilmente si fanno l'inizio. Le squadre di laboratorio, come dicevo, sono tre, le squadra 1 e la squadra 2 sono in presenza, in presenza rispettivamente nell'aula R2B e R1B, che se non sbaglio sono le aule che si affacciano su via Piercarlo Boggio, dietro l'altro corso Ferrucci, tra l'altro sono comode perché hanno un ingresso diretto dalla strada senza necessariamente passare dai tornelli del Politecnico. È un'aula normale, un'aula di direzione con i banchi come questa, come quella in cui siamo appena stati e quindi non ci sono i computer in aula, dovete voi portare il vostro pc portatile per programmare in aula. La prima settimana forse non ci servirà, ma tra quelle successive dovremo scrivere il codice e quindi dovete portarvi il computer in queste aule, prenotarvi ovviamente e arrivare col pc portatile. La squadra 3 invece segue le esercizazioni online, quindi le tre squadre sono in alternativa, in tutte e tre si fa la stessa esercizazione, quindi dovete scegliere una sola di queste tre squadre, tra un attimo vi do la divisione alfabetica. Ovviamente dovete arrivare col vostro portatile su cui siano stati installati i programmi necessari, questo è abbastanza ovvio. Inizieremo i laboratori il martedì della settimana prossima, quindi la seconda settimana del corso, il 5 ottobre, martedì 5, cominciamo a svolgere esercizi e sul sito del corso troverete di settimana in settimana il testo dell'esercizazione che svolgeremo, pubblicato. Questo testo conterrà alcuni esercizi che vi chiediamo di risolvere in laboratorio e altri esercizi che sono etichettati con la frase da risolvere a casa, così avete altro lavoro da poter fare nel caso in cui finiate troppo presto gli esercizi assegnati o semplicemente come preparazione durante la settimana per approfondire un po' di più gli argomenti. Quindi il testo settimanale del laboratorio è in parte da svolgersi in aula e in parte da svolgersi a casa, per conto posto. Ecco, la divisione in squadre, abbiamo seguito la stessa divisione che seguono i corsi di matematica e analisi, in modo che l'orario, visto che è incastrato in parallelo alla squadra 1 di informatica, c'è la squadra 2 di chimica e viceversa, abbiamo la stessa identica divisione alfabetica, quindi la squadra 1 è composta dalle persone con cognome fino alla L compresa e la squadra 2 è invece composta da persone con cui il cognome inizia dalla M in avanti nell'alfabeto. E dovete venire quindi a scegliere di prenotarvi attraverso il tu delle prenotazioni del Politecnico nella squadra opportuna, quindi cercate chi è nella prima metà alfabetica del corso di andare nella squadra 1, chi è nella seconda metà alfabetica di andare nella squadra 2 e poi viceversa per quanto farete per chimica e quanto farete con l'analisi. Quindi seguite la squadra 1, 2 o A e B, mi pare le chiamano i matematici, ma il concetto è sempre lo stesso. Se rimanete nella vostra squadra non avete sovrapposizioni o complicazioni con l'orario. Poi noi come informatica abbiamo una terza squadra che sarà al mattino, che è aperta a tutti, principalmente a tutti coloro che non sono prenotati per la presenza in aula. Quindi tutti coloro che non sono riusciti a venire in quel giorno, non sono riusciti a prenotarsi per qualunque motivo, scelgono di fare il laboratorio online. Cosa vuol dire fare il laboratorio online? Essenzialmente vuol dire a casa propria alle 10, vi mettete davanti al computer, prendete il testo così come fareste se foste in classe e provate a risolverlo e noi vi possiamo dare assistenza attraverso il canale chat di Slack e nel caso del bisogno anche con delle videochiamate, con divisione del codice, eccetera. Chiaramente è un pochino più macchinoso, richiede un pochino più di impegno da parte vostra perché siete a casa e dovete chiedere aiuto nel caso in cui ne abbiate bisogno, mentre in aula è più facile perché noi possiamo girare anche in qualche modo, darvi dei suggerimenti e sbloccarvi quando ci accorgiamo che magari siete bloccati su qualche punto. Però le squadre sono tutte e tre equivalenti, la squadra 3 può essere, visto che è prima delle altre, può essere usata se volete cominciare a dare un'occhiata, non sarebbe sbagliato, per voi alle 10 cominciare a guardare, tanto non avete né matematica né chimica, cominciare a guardare il testo dell'esercizio, se avete già delle domande, delle curiosità o volete cominciare a fare un esercizio, potete già fare domande perché dalle 10 alle 11.30 siamo collegati per supportarvi e poi anche al pomeriggio partecipare alla squadra 1 o alla squadra 2 potendo completare l'esercizio, quindi è un'opportunità sicuramente unica per chi non è potuto venire, ma è anche un'opportunità in più per chi viene in presenza, bene assistite come preferite. Per quanto riguarda le comunicazioni, quindi le comunicazioni da me verso di voi o da voi verso di noi docenti, noi usiamo esclusivamente la piattaforma Slack, in cui ho chiesto e ho anche abbastanza insistito perché vi scriveste tutti, continuo ad insistere, proprio perché visto che siamo in tanti, più di 200 persone, 250, le mail diventerebbero immediatamente ingestibili e quindi usiamo solo la piattaforma Slack per comunicare, vi scrivete tutti, non userò più le mail se non per poche e rare comunicazioni ufficiali, ma per tutto il resto diciamo così useremo questa piattaforma, ci sarà un canale general che è quello nel quale io scrivo, posso scrivere solamente io in questo canale, scrivo le informazioni generali, gli avvisi, gli annunci eccetera, è invece un canale discussione che è aperto a tutti, quindi voi potete scrivere le vostre domande, i vostri dubbi e noi gli rispondiamo, noi garantiamo che tutti i messaggi che voi scrivete sul canale discussione a tutti daremo risposta, se poi la risposta ve la potete dare anche tra di voi, benché va molto bene perché essendo uno strumento di chat social, se riusciamo a garantire anche un po' di comunicazione tra di voi, anche informale, molto informale, non preoccupatevi, secondo me ne abbiamo tutti da guadagnare perché in qualche modo cresciamo insieme in questo corso. Poi ci sono due canali dedicati, uno che si chiama Lezione Live e l'altro che si chiama Laboratorio, che sono i canali di supporto durante il laboratorio online del martedì, quindi questo canale è attivo solamente il martedì dalle 10 alle 11.30, se scrivete in altri momenti nessuno legge, ma in quell'ora e mezza noi rispondiamo alle domande, alle richieste di aiuto di coloro che stanno facendo il laboratorio online. Così come il canale Lezione Live è una chat che usiamo durante la lezione del giovedì, giovedì faccio lezione online via zoom e quindi le domande che mi fate, me le fate attraverso questo canale Lezione Live e io in tempo reale riesco con un occhio, guardo telecamera, ma con l'altro occhio guardo la chat e posso rispondervi in tempo reale direttamente mentre faccio la lezione ai dubbi che avete, quindi voi scrivete liberamente, io ovviamente non vi posso rispondere via chat perché sto facendo la lezione, ma vi rispondo in voce, è uno strumento per rimanere in contatto anche qua molto direttamente, molto informalmente durante la lezione online. L'abbiamo fatto l'anno scorso, in cui eravamo totalmente online e direi che è funzionato molto molto bene, era quasi più facile comunicare via chat che non fare la domanda in aula alzando la manina, ma in ogni caso non fatevi problemi, in entrambi i casi. Quindi anche questo canale è attivo solamente durante quell'ora e mezza della settimana, solamente durante le lezioni live, c'è il vantaggio che essendo la chat all'interno di Slack non scompare quando si chiude la virtual classroom, ma rimane, quindi se uno vuole andare anche a rivedere cosa è stato detto, le domande che sono state fatte, io lo faccio spesso a fine lezione, andiamo a vedere se ho perso qualche domanda per andare poi eventualmente a riprendere la volta successiva. quindi rimangono come storia questi due canali sempre, ma sono vivi e attivi solamente in quei due momenti della settimana. E poi c'è un canale random che è libero per qualunque tipo di sfogo, commento, condivisione di cose divertenti o altro che vogliate fare all'interno di questo canale. Quindi impariamo anche a usare questo strumento che è un pochino, all'inizio un po' sofisticato, però vedremo che ci aiuta abbastanza a riuscire a gestire una conversazione tra un numero di persone anche molto elevato. Le dolenti note sono l'esame, speriamo che non sia dolente per la maggior parte di voi. Come è composto l'esame? L'esame è composto da tre domande di teoria, qui c'è scritto alcune domande brevi, ma alla fine sono tre domande di teoria, normalmente sono una domanda sui numeri, sulla numerazione in base 2, una domanda sull'architettura del calcolatore, che sono le due lezioni, le due unità, T1 e T2, che svolgeremo su questi argomenti, e una terza domanda che è sulla teoria di Python, essenzialmente della programmazione. E poi c'è un esercizio di programmazione, queste tre domande valgono due punti ciascuna, quindi sono sei punti. E poi c'è un esercizio di programmazione che vale 27 punti, 27 più 6 fa 33, quindi si può arrivare al 30 lode con un buon margine. L'esercizio di programmazione da 27 punti, vi diamo un problema e potrete usare durante l'esame una piattaforma che al suo interno comprende PyCharm, poi verso la fine del corso la proviamo, non preoccupatevi. E quindi sulla base di questo testo, usando questo PyCharm dentro la piattaforma d'esame, dovete semplicemente realizzare un programma che deve risolvere quel problema. E poi noi valuteremo ovviamente il codice che avrete scritto, e quindi lo valutiamo sia dal fatto che funzioni o no, che abbia degli errori o no, sia anche andando proprio a leggere e a capire cosa avete fatto, che ragionamenti avete fatto, quindi non è solamente una correzione funziona o non funziona, ma è una valutazione nel merito delle scelte progettuali di programmazione che avete fatto. Quindi vedete che il grosso dell'esame è svolgere un esercizio di programmazione, un esercizio di programmazione che sarà della stessa difficoltà, della stessa tipologia degli esercizi che faremo nelle ultime due o tre settimane del corso. Le ultime due settimane saranno dedicate proprio a fare preparazione all'esame e quindi in laboratorio avremo degli esercizi che sono esattamente della stessa difficoltà di quelli che troverete all'esame e cercheremo di usare già anche la stessa identica piattaforma che troverete all'esame in modo da avere già tutto pronto, quelle che noi chiamiamo in gergole simulazioni di esame. Facciamo un'esercizio in classe normale, ma facciamo come se fosse l'esame e ci comportiamo esattamente nel stesso modo. Ho lasciato qua questa domanda un po' sibillina, che cosa serve per passare bene l'esame a modi suggerimenti che vi posso dare, che posso provare a darvi, sull'attenzione che dovete mettere su alcune parti della vostra preparazione. Quali sono le difficoltà della programmazione? Le difficoltà della programmazione non sono il linguaggio di programmazione, Python è già più semplice rispetto ad altri linguaggi come C o Java, ma non è comunque lì la difficoltà, la sintesi del linguaggio non è un problema, si impara una volta che uno ha capito i meccanismi di base. La difficoltà è la capacità, che ho scritto qua, logico-razionale, di analisi e sintesi, analisi di un problema e sintesi di una soluzione. Relacciamoci anche un po' all'esercizio che abbiamo fatto in aula sul contare i nomi delle persone. La grossa difficoltà è stata prendere un problema che intuitivamente sembrava semplice e poi smontarlo, decomporlo, questo vuol dire analisi, smontarlo a pezzettini e vedere i singoli passaggi per risolverlo e quindi sintetizzare e mettere insieme poi una procedura che sia in grado di risolverlo. Allora questo è difficile perché noi molto spesso siamo abituati, o molti di noi siamo abituati a ragionare, ad agire per istinto, per associazione di idee, per analogia, che sono tutti meccanismi che funzionano bene nella vita normale o in molte discipline, ma nell'informatica no perché noi alla fine dovremmo dire alla macchina che cosa deve fare e quindi dobbiamo dirglielo in un modo assolutamente esatto, assolutamente logico, assolutamente razionale. La difficoltà per noi sarà dire, ma io questa cosa a mano la so fare facilmente, ma come faccio a spiegartelo? E allora per far questo devo proprio imparare avere un'attività di introspezione sui miei processi mentali, io come faccio, come ci sono arrivato questa soluzione, come potrei fare, quali sono i casi particolari, quali sono le eccezioni, quali sono le anomalie che potrebbero verificarsi. Tutte queste pignolerie sull'analizzare un determinato problema sono alla base del poter poi impostare una soluzione informatica per il problema stesso. Per alcuni di noi, per alcuni di voi, questo è più intuitivo, è più naturale, viene semplice, per altre persone, ma questo dipende un po' da come siamo fatti, da quale attitudine abbiamo, per altri invece questo processo è molto più difficile, faticoso. Non conta studiare tanto, non ci sono 12.000 pagine da studiare, le quantità di cose da studiare, vedremo, è poca rispetto agli altri, non ci sono teoremi da imparare, da dimostrare, eccetera. C'è da allenare la capacità logica, qui non cercate di memorizzare, di studiare memoria, di vedere gli esercizi fatti dagli altri, di leggere il libro sei volte, non serve. Serve mettersi di fronte, questo è il secondo punto, mettersi di fronte a una serie di esercizi, di problemi proposti, proposti o inventati, e provare a risolverli. Non leggerlo e dire, ma sì, questo lo so risolvere, no, provare davvero a risolverli, anche quelli che sembrano facili, perché poi molto spesso, le prime settimane vi sembrerà banale questa materia, ah ma sì, sono stupidaggini. Poi purtroppo, o per fortuna, le varie argomenti si assommano uno all'altro, si accatastano e si cominciano a intracciarsi in modi abbastanza complessi. Per cui se uno ha, nelle prime settimane, le basi solide su quelli che sono i meccanismi di base del linguaggio e della programmazione, poi più avanti riesce a costruirci sopra anche i costrutti più complicati e i concetti più complicati. Se invece nella parte iniziale avete un po' sopra seduto perché vi sembrava tutto facile così a prima vista, poi vi accorgerete che non era, magari era facile, ma non l'avete interiorizzato bene dentro di voi e quindi non riuscite a usarlo e ogni volta dovete ricominciare da programmare riga per riga anziché a sfruttare la conoscenza che avevate già. Quindi il consiglio è davvero di fare tutti gli esercizi, provare a farli, provare a farli da soli. Se io mi metto a fare un esercizio insieme al mio amico o alla mia amica che è più brava di me, non serve niente, perché lui o lei lo sa fare, io guardo, mi illudo di aver capito, ma se dovessi riprovare non ce la faccio. Quindi bisogna veramente mettersi davanti alla macchina e dire ok adesso siamo io e te, ce la vediamo e vediamo se io riesco a giovere questo esercizio. Se ci provo, poi magari non ci riesco, allora poi mi confronto con altre persone. Allora dopo che ho provato vado a chiedere aiuto, vado a vedere, ma mi sono bloccato, cosa faccio qua, perché mi dà questo errore, perché non riesco ad andare avanti. Però devi averci provato, perché altrimenti se io ti facessi vedere la soluzione di un programma, non ti servirebbe. Forse non la capiresti, ma anche se la capissi non riusciresti a capire il ragionamento che è stato fatto per produrlo. E quindi per quello dicevo, prima accennavo, non serve a niente leggere tanti programmi fatti da altri, fossero anche giusti, fossero anche le soluzioni che vi diamo delle esercitazioni, laboratorio, non vi serve studiare quelle. Vi serve provare a farlo voi e poi magari lo fate in un modo diverso, magari anche più contorto. Per carità tutto ci sta bene, l'importante è che sia corretto e siate riusciti a trovare il ragionamento che vi porta alla soluzione. Questo ovviamente va fatto su computer, non solamente su carta. Si può cominciare su carta, ma poi alla fine un programma, per sapere se funziona, devo metterlo dentro il pc e vedere cosa succede. E si scopre che lì poi ci saranno anche molti problemi più pratici, più di sintassi, più di dettaglio, che però vanno risolti, altrimenti il programma non gira, non funziona. E provandolo su computer mi accorgo magari di casi a cui non avevo pensato, perché poi effettivamente lo sto facendo girare. Quindi non sembra anche lì sulla carta di aver capito, di aver trovato una soluzione, ma poi fino a quando non la provo effettivamente a calcolatore, non è detto che quella soluzione sia giusta o sia completa. E poi una volta che ho scritto devo fare delle verifiche, non solamente con magari il dato di esempio che c'è nel testo, ma provare con dati diversi per vedere se in tutti i casi che si possono presentare il mio programma dà il dato corretto e magari cerco anche di mettere in crisi il programma, provarlo con dei dati strani per vedere come reagisce e così mi accorgo se il programma sta reagendo correttamente a tutti i casi anomali, il che vuol dire che io come programmatore ho pensato prima tutti i casi che si potrebbero verificare e li ho codificati in modo corretto. Quindi questo è veramente il lavoro che vi viene richiesto, che viene richiesto a tutti noi per riuscire a digerire un pochino questa materia e come dicevo è imparare a pensare in un modo diverso, in un modo logico e razionale che poi è alla base di tutte le materie scientifiche, anche se non andate a programmare in altre materie però l'approcciare le cose in questo modo vi servirà anche in tutte le altre materie proprio come abitudine a pensare secondo certi schemi. Poi se vi divertite quando avete fatto un esercizio provate a poi modificarlo, ah ma e se invece, non un po' il giochino che abbiamo fatto questa mattina, e se invece avessi nomi doppi e se invece volessi i primi tre persone e se invece, allora quando si modifica la richiesta come si va a modificare la soluzione? E quindi avete di fatto un numero infinito di problemi su cui esercitarvi, basta prendere quelli esistenti e cominciare, a volte basta modificare veramente due parole che il problema, che la soluzione a quel problema cambia radicalmente perché va affrontato in un modo diverso, quindi anche lì un altro errore che molti fanno è di andare, quando trovano un tema d'esame, andare a vedere gli esercizi simili che sono stati dati in passato, non serve a niente perché non c'è il concetto di simile qua in informatica, come vi dico, vi cambia una parola, la soluzione è completamente diversa, quindi non ci sono, ve lo dico brutalmente, non ci sono scorciatoie rispetto al farlo davvero, al ragionarci davvero, al trovare davvero la soluzione. Ok, questo un po' conclude quello che era la parte logistico-pratica delle informazioni che volevo dare, come sempre i contatti con cui potete raggiungerci sia sottoscritto sia alla dottoressa Barrera che seguirà soprattutto la parte di laboratorio, qui ci sono le mail, ma come abbiamo detto all'inizio noi le mail cerchiamo di usare il meno possibile e quindi per qualunque tipo di conversazione, domanda, condivisione, eccetera, troviamoci liberamente su Slack e comunichiamo attraverso questa piattaforma. Qui ci sono anche riassunti nelle slide, il link sia per lo Slack che per il sito del corso, ovviamente le slide le avete già scaricate, quindi potete tranquillamente avere tutta questa informazione disponibile. Ok, noi a questo punto, se state guardando questo video martedì quando ve l'ho proposto, scusate, mercoledì quando ve l'ho proposto, alla fine della lezione, noi ci vedremo domani che è giovedì, nella prima lezione online su Zoom, andate sul sito del corso a prendere, a recuperare il link, ve lo scriverò poi anche nella, c'è già scritto anche su Slack nel canale di lezione live, il link Zoom a cui collegarvi per la lezione online. Con questo ho terminato questo addendum di lezione, mi sembrava che fossero informazioni molto semplici o dirette operative, per cui ho preferito centrare la lezione sulle parti di contenuto. Vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta.